quindi abbiamo un bar di differenza Giuseppe se scende sotto gli otto mi avvisi, Michele se sali verso l'otto mi avvisi Adesso siamo da quella incidentata, stiamo trasportando il gas a quella di soccorso Quello nero è il liquido che sta passando Il fuoco alla giornata Ampettare Accontulare Grazie a tutti.